Ciao a tutti, oggi parleremo di ateismo ed è un argomento un po' triste perché bisogna ammettere che gli atei in un modo o nell'altro sono destinati a fallire. Non ci sarà mai una società atea al 100% completamente atea, fatta solo di atei, non esisterà mai un mondo in cui l'essere umano smetterà di credere in qualcosa di soprannaturale, di al di sopra di sé. Non è possibile, è proprio nella natura umana. Credere in qualcosa nella natura umana è come aver bisogno di mangiare, di dormire, di amare, è un bisogno e quindi come tale verrà sempre espresso in qualche modo. Per capirci meglio vi faccio un esempio mentale. Parto subito dicendo che questo video non vuole offendere nessuno, non vuole mancare di rispetto a nessuno. Questo video è fatto solo per cercare di avere un confronto umano, concreto e reale con le persone che stanno dall'altra parte e che la pensano diversamente. massimo rispetto per i credenti, ognuno può credere quello che vuole. Qui il punto di cui stiamo parlando è l'influenza della fede, la religione, la chiesa soprattutto, lontana di quella che è la nostra quotidianità. E anzi ciò che ci auguriamo veramente è che tutti i fedeli, anche quelli delle religioni più diffuse del pianeta, contribuiscano a tenere separata la sfera spirituale interiore da quella che è la gestione dello stato. Sono sicuro che chi crede veramente è il primo che non vuole discriminazioni, è il primo che dice io voglio vivere la mia vita, la mia fede senza poter essere accusato da nessuno che la mia religione che c'è in cui credo stia facendo discriminazioni. Una per tutte la cito è quella dell'otto per mille perché tutti dicono ma quali discriminazioni non ce ne ce ne è. Perché se oggi in Italia esistono religioni che prendono dei soldi dallo stato e altre religioni che questi soldi non li prendono è una discriminazione. O la si dà a tutti o non la si dà a nessuno e così discriminazione non ce n'è. O la dai a tutte le religioni o non la dai a nessuna religione. E lì c'è uguaglianza. Comunque andiamo avanti. Mettiamo caso che un domani, un giorno, per motivi di estremo comunismo o di estremo fascismo in un modo o nell'altro, anche se il secondo è molto più difficile perché fa comodo, però in un modo o nell'altro eradichiamo la religione. Non ci sarà più religione nel mondo. Niente. Perfetto. Un mondo dove non esiste il concetto, proprio l'idea della divinità. Quanto andrà avanti questo mondo? Cioè passa un anno, due anni, dieci anni, vent'anni, cent'anni, mille anni, cinque mila anni. Ma arriverà prima o poi qualcuno che comincia a dire sai io sento delle cose oppure sai c'è qualcosa, i nostri antenati, lo spirito dell'universo, la magia, la cosa, le anime, ogni cosa. Prima o poi succederà che qualcuno fa una profezia, che qualcuno scrive un libro, che qualcuno dice di essere lì mandato da un potere superiore, che qualcuno porta delle scritture, porta delle interpretazioni. Succederà che prima o poi nasce una nuova religione. È più forte di noi, non possiamo farci nulla. Considerate che anche le primissime religioni, diciamo, di stampo antropomorfo, sicuramente provengono da fatti successi in passato. Ad esempio, i grandi condottieri, lo stesso Giove, che era figlio di Urano, che era figlio di Saturno, non vorrei sbagliare, anche questo qui. Comunque, Saturno, Urano, vabbè, insomma, ci siamo capiti, la mitologia greca, probabilmente questi erano condottieri, erano re, che in qualche modo sono stati divinizzati. E la stessa cosa è capitata in tutto il mondo e capiterà. Le religioni sono cose che nascono indipendentemente in ogni parte del mondo. Dovunque ci siano esseri umani, nasce un culto. E allora, quali sono le opzioni? Quali sono le possibilità? Come possono gli atei fare qualcosa di concreto? Innanzitutto analizziamo, facciamo un passo indietro e analizziamo cosa vogliono gli atei. A parte coloro che lo fanno come una scelta interiore, personale, quindi si ferma lì nel loro interno e basta. Molto spesso ciò che vorrebbero gli atei è che le religioni togliessero le mani da fatti politici, da fatti sociali, da fatti che riguardano proprio l'essere umano, che riguardano la gestione economica, dal patrimonio dello Stato. Di solito, non sempre, però di solito è questo che vogliono gli atei, che le religioni evitino di fare danni. E allora la soluzione non è tanto diventare atei, quindi questo è un messaggio che voglio mandare a tutti gli atei del mondo. È inutile lottare per l'assenza di una divinità. Al limite lottiamo per la laicità. Facciamo in modo che la religione sia un fatto privato che venga tenuto fuori dalle cose del mondo. Però è difficile, è difficile perché la maggior parte delle religioni, proprio per loro natura, non tendono a farsi fatti loro, anzi, al contrario, tendono spesso, anzi, sempre, praticamente, a metter bocca nelle cose sociali, nelle cose umane. L'unica soluzione sarebbe promuovere una religione innocua, una religione che non faccia danni, una religione che spinga al pensiero critico, all'inclusività, al rispetto fra gli altri, alla tolleranza. E io sono sicuro che sentendo queste parole, la maggior parte di chi ascolta penserà che la propria religione è così, ma la mia è così, cioè è inclusiva, è tollerante, rispetta agli altri, spinge al pensiero critico. La maggior parte delle persone è convinta di questo. Come la maggior parte delle persone, sentendo parole tipo religioni che spingono all'odio, che spingono alla guerra, che spingono all'omicidio, che spingono alla discriminazione, sentendo queste parole, molte persone penseranno che molte religioni diverse dalla propria, cioè che non sono la propria, spingono in quella direzione. Beh, in realtà si sbagliano entrambi, perché in realtà esiste una sola differenza tra le religioni inclusive e quelle che non lo sono. Una differenza profondissima legata proprio al concetto di Dio. Nella maggior parte delle religioni è contraddistinto da cinque caratteristiche fondamentali. Cinque caratteristiche proprio che sono uguali praticamente in tutte le religioni, anche le più diverse fra di loro, però hanno tutte queste cinque caratteristiche. Che sono? Uno, che Dio esiste, e vabbè, questo va da sé. Due, che Dio è onnipotente. Va bene, se ne può parlare dell'onnipotenza, ne abbiamo parlato in un altro video che vi linko qua sopra. Tre, che ha creato tutto l'universo con uno scopo. Quattro, che ci ha dato delle regole precise che servono a lui proprio per farci arrivare e per far arrivare l'universo a questo scopo. E cinque, che è interessato al nostro comportamento, cioè che ci controlla e verifica che effettivamente stiamo seguendo le sue regole. Beh, questi cinque punti sono molto importanti, perché voglio dire, il punto uno e due, cioè che Dio esiste e che è onnipotente, che esiste se credi in una religione, esiste, deve essere un Dio che esiste. Due, che è onnipotente, se ne può discutere, ma comunque va bene anche. Ma per i punti tre, quattro e cinque, lì è grave la situazione. Perché? Quando ci sono delle regole, ci sono delle indicazioni, ci sono, c'è un obiettivo, si dice che c'è un obiettivo finale e che Dio vuole arrivare a quell'obiettivo. La domanda è, ma noi come facciamo a saperlo? Cioè come fa l'essere umano, non un uomo, una persona, io, tu, gli altri, l'umanità? Come fa l'umanità a sapere cos'è che vuole Dio da noi? Qual è l'obiettivo, quali sono queste regole, come sono strutturate, eccetera? Comunque ce lo deve dire qualcuno. Cioè ci deve essere una persona che ce lo viene a dire. E di solito queste cose sono scritte in qualche antichissimo libro. E anche lì questo libro non è che è scritto in maniera chiara, con delle regole come la Costituzione, per esempio. Punto uno fai questo, punto due fai questo. No. Ci sono queste scritte, questi racconti su questi antichi libri che poi vanno interpretati. E allora? Chi li interpreta questi racconti, questi libri? Quindi naturalmente anche all'interno della stessa religione, poi ci sono interpretazioni diverse, ci sono gli scismi, le cose. Insomma, a quel punto, una volta che ci sono delle regole, che sono interpretate, che sono scritte da qualche parte in maniera non chiara, che vanno seguite e non si sa come, a quel punto ci sono i conflitti. Perché non puoi essere inclusivo, perché c'è quello che dice dentro la chiesa si entra senza cappello, quello che dice si entra col cappello, quello che dice puoi mangiare la mucca, puoi mangiare il maiale, non puoi mangiare la mucca, non puoi mangiare il venerdì solo pesce, si prega in piedi, si prega in ginocchio, si prega al mattino, si prega alla sera, ok? Interpretazioni che inevitabilmente creano conflitti. Perché quando tu ti trovi in una situazione in cui devi fare una certa cosa che è legata a ciò che tu sei convinto che Dio voglia da te e un altro fa la cosa opposta, a quel punto non potete convivere, non si può stare assieme. Cioè queste cinque caratteristiche inevitabilmente creano dei conflitti, creano degli attriti, non c'è più possibilità di convivere. E chi ha ragione? Chi ha ragione? Siccome non è scienza, nella scienza le cose sono provate scientificamente e quindi finché qualcuno non ti dimostra che ti stai sbagliando, quella è la verità e non ci puoi fare niente, con le usanze, con le tradizioni, con le interpretazioni, vince il più forte, ci sono le guerre, ci si ammazza. Quando stermini quella popolazione che la pensa diversamente da te, tu hai ragione. Cioè purtroppo questa cosa è molto triste. Invece tornando ai cinque punti, ok? Se noi di queste cinque caratteristiche affidiamo alle divinità prendiamo solo le prime due, cioè che Dio esiste e che è onnipotente e basta. Se noi prendiamo quelle religioni che sono poche ma ci sono, che dicono solo che Dio esiste ed è onnipotente, a quel punto si può vivere tranquilli, assolutamente, non importa l'origine della divinità da dove viene, chi l'ha creato, non importa la storia della creazione, le discendenze eccetera, non importa la forma di Dio, può essere, può avere qualsiasi forma, può avere la forma di un'aquila, di un totem, di una piramide, di un uomo ciccione che sta bello pacioccone seduto e gioisce di quello che gli succede attorno, può avere la forma di una farfalla, può avere la forma di un piatto di spaghetti con le polpette che viaggia nell'universo, può avere qualsiasi forma perché ognuno può vivere la propria divinità senza conflitti di regole, senza che ci sia qualcuno che dice ah però in questa situazione devi fare così, ok? A quel punto quando due persone di religioni diverse si incontrano e uno dice sai la mia religione dice che Dio è così, che ha creato il mondo in questo modo e che ha questa forma, si incontra un altro che dice no e sai il mio Dio invece, la mia religione dice che Dio è così, che ha creato il mondo in questo modo e ha questa forma. Questi due non litigano, al limite chiacchiano, parlano, si raccontano a vicenda come funziona, perché nessuno dei due ha un obbligo di regola, degli obblighi nei confronti di questa creazione, non deve combattere contro nessuno per affermare la sua posizione. Quindi l'unica possibilità è avere una religione che sia così, che abbia solo queste due caratteristiche. Prima di parlare di quali sono queste religioni e approfondire l'argomento voglio fare un piccolo escursus perché quando dico questa cosa che la religione non dovrebbe dare regole, dell'assenza di regole, spesso mi sento dire ma allora dovremmo vivere come le bestie, senza regole, lasciati così sia allo stato brado. Signori, ma le regole ce le deve dare un libro scritto 5.000 anni fa? Le regole ce le deve dare un qualcuno che sta in un posto e si sveglia una mattina, ha una profezia e ci dà la regola, fa un'interpretazione? Le regole servono a regolare, lo dice la parola stessa, la nostra vita, la nostra quotidianità e queste regole esistono, ci sono già e si chiamano leggi. Sono le leggi che devono regolarci, che ci devono dare dei modelli comportamentali, che ci devono spingere a essere persone civili immerse in un mondo civile con leggi studiate apposta per migliorare la vita all'interno di questa società civile. Queste regole si chiamano leggi e se proprio vogliamo discutere di qualcosa, se proprio vogliamo scontrarci su qualche argomento, scontriamoci sulle leggi, discutiamo di quanto è corretta una legge, di quanto funziona, di quali conseguenze ha, di quali miglioramenti porta, di quali problemi crea. Parliamo di quanto è sano e di quanto è onesto il governo che l'ha creata quella legge, perché nella storia del mondo leggi molto molto negative ce ne sono state, leggi discriminatorie, le leggi razziali ci sono state, quindi non sempre siccome c'è una legge vuol dire che va bene, no, ma parliamo di quello, non parliamo di come interpretare una cosa scritta 5.000 anni fa quando ancora manco esisteva internet, quando ancora non esisteva la possibilità di avere delle operazioni chirurgiche, quando non c'erano gli automobili, non c'erano gli aerei, non c'erano i passaporti. Le leggi vanno fatte per aiutarci a vivere oggi, quando una legge è troppo vecchia si cambia, quando una legge non va bene si cambia, quando c'è un vuoto legislativo la legge si fa, non la prendiamo cercando di interpretare cose. Ma quindi quali sono queste religioni inclusive a cui ci si può orientare per cercare di vivere tutti in pace, in armonia, tutti insieme. Purtroppo queste religioni non sono molto famose, sono proprio quelle meno conosciute. E parliamo per cominciare dell'animismo. L'animismo è una forma di religiosità molto bella, molto romantica, quasi affascinante. Però niente, l'animismo ritiene che in ogni essere vivente, ma addirittura in ogni oggetto, c'è un'anima, c'è uno spirito dentro che la governa. L'animismo è una religione molto diffusa, non è una religione, sono varie religioni di tipo animista, sono molto diffuse nella parte orientale del mondo, quindi l'India, la Cina, il Giappone, eccetera. In Oriente l'animismo è una cosa molto forte ed è anche molto romantica, molto bella pensare che tu devi rispettare ogni foglia, ogni fiore, ogni oggetto, ogni ricordo del passato, che so, quella scatoletta di legno che ti hanno lasciato i tuoi genitori o i tuoi nonni, perché lì dentro c'è un pezzo dei tuoi genitori e dei tuoi nonni. È bellissima, molto bella, molto rispettosa e nessuno pensa che sta scatoletta venga lì a dirti se puoi fare questo, non puoi fare quello, se ti puoi toccare là, ti puoi toccare là, se puoi mangiare la mucca o meno. E quindi di conseguenza l'animismo ci permetterebbe davvero di vivere tutti assieme, l'animismo e tutte le altre religioni di questo tipo. Ad esempio, parliamo del buddismo zen, preciso, buddismo zen, perché purtroppo il buddismo è un po' come anche col cristianesimo, no? Il cristianesimo non è una sola religione, non è che esistono i cristiani e solamente i cattolici, esistono i cristiani e poi ci sono i mormoni, i testimoni di Geova, gli ortodossi, eccetera, ci sono tante religioni, i calvinisti, protestanti, eccetera. Tante religioni, tante diramazioni del cristianesimo. C'è il cristianesimo e poi c'è un ventaglio di varie religioni che vengono tutte dal cristianesimo. La stessa cosa è col buddismo. Nel buddismo c'è la parola del Buddha principale che fa da base e poi da lì nasce un ventaglio di altre religioni e credenze che hanno varie sfaccettature. In questo ventaglio di sfaccettature abbiamo da una parte il buddismo zen che si appoggia allo zen. Lo zen in questa lista non c'è perché lo zen non è una religione, lo zen è laico, lo zen è solo proprio un modello di vita, un modo di affrontare l'universo, di affrontare il mondo. Quindi abbiamo lo zen che non può rientrare in questa lista perché è da atei, ok? E quindi non c'è. Poi c'è il buddismo zen che è un gradino un po' più. Cioè è lo zen con un po' di spiritualità, ma proprio un minimo, ok? Allora quello va bene. Le altre sfaccettature invece hanno tutto un ventaglio di opzioni che vanno sempre, diciamo, purtroppo uso questo termine, a peggiorare, fino a sfociare nelle sette, a sfociare nell'esaltazione, a sfociare nell'estremismo, ok? E quindi anche lì c'è il buddismo di quest'altra parte, quello più estremo, quello proprio che non va bene, nel buddismo fatto di manipolazione, di soppressione, di discriminazione, quello non va bene. Quindi attenzione a che buddismo vi avvicinate. Io qua non voglio fare nomi perché scoccia, li faremo in un'altra occasione in un video apposito, però in questo momento parlo in generale. Quindi state attenti a che tipo di buddismo andate a vedere. Il buddismo zen va bene, gli altri sempre meno, fino a... no. Sono molto interessanti, ma poco diffuse, difficilmente diffondibili anche le religioni dei nativi americani. Quelli lì hanno... anche quello è un tipo di animismo, fatto di un certo tipo di spiritualità, di forza interiore, ma ripeto, è troppo lontano da noi, difficilmente penso che possa prendere piede. Esistono invece altre religioni, diciamo, un po' particolari, già si comincia a uscire dallo schema normale. Ad esempio parliamo del dudeismo. Il dudeismo viene da un film, è una religione tratta da un film. Il film si intitola... il film si intitola del grande Le Boschi. Nel grande Le Boschi c'è il protagonista che tutti chiamano DUDE. DUDE in italiano è stato tradotto DRUGO, ma a me non piace per niente questa traduzione. In realtà la traduzione migliore sarebbe tipo COMPARE. Uè, COMPARE! Cioè questo, DUDE, Uè, COMPARE! Il COMPARE è il compagnone, ok? Quindi l'idea è vivere in quel modo là, vivere in maniera spensierata, senza attaccarsi troppo alle cose, stando sempre tranquilli, stando sempre vicino agli altri, stare a disposizione, fare il giusto senza esagerare. Il dudeismo è una bella religione. In Italia è anche molto diffusa, molto di più di quanto vi immaginate. Cercatela su internet perché è davvero interessante. Anche il simbolo del dudeismo è molto particolare, che c'è presente, magari lo metto qua in sopraimpressione, lo ying e lo yang, solo che anziché avere i due puntini, uno bianco e uno nero, ce ne ha tre per lato, a simboleggiare la palla da bullying, che è una caratteristica proprio del film Grande Le Boschi. Sta molto divertente. Un'altra religione che mi piace molto, che è tratta da un film, a sua volta, si sembra strano che esistano religioni tratte dai film, eppure ce ne sono davvero tante. Ne cito una al volo, che non rientra qui perché non è fra le più inclusive, che è quella di Star Wars. Esiste la religione della forza, quindi tu ti puoi convertire alla forza, come religione, e diventare uno Jedi, eccetera. Interessante. Però non la consiglio, perché non è veramente fra queste che tengono solo le prime due in considerazione. Anche quella ha delle regole, eccetera, quindi lasciamo perdere. Altra religione, dicevo, tratta da un film molto interessante, bello il film, bravo il regista, si intitola il film Io c'è. Io c'è. È un film di Alessandro Aronadio, che è un mio amico, io saluto. Ciao Alessandro, è fantastico. Praticamente in questo film l'idea è che Dio è io, cioè Dio sei tu, sei tu Dio. Qui infatti il simbolo religioso di questa religione è uno specchio. Lo specchio è, a posto del crocivisto c'è lo specchio, perché Dio sei tu. Pensate all'implicazione filosofica di questa scelta, del fatto che tu sei padrone del tuo mondo, il responsabile è ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E torniamo a prima, ma allora uno fa quello che vuole? Sì, fa quello che vuole, finché rispetta la legge. Ed è la legge la cosa importante. La legge che noi, esseri umani civili, ci siamo dati per continuare a essere umani e civili. Poi l'aspetto religioso intimo, questo te lo fai da solo. E questo è molto bello, lo ioismo si chiama. Lo ioismo è veramente fantastico. Consiglio a tutti, vedetevi questo film. Io c'è. Poi andando sempre più a fondo nelle religioni più particolari abbiamo il copincollismo. Questa si chiama chiesa missionaria del copincollismo. Copincollismo, cos'è il copincollismo? Ci avete presente quando sul computer selezionate un pezzo di testo e poi fate ctrl c e poi da un'altra parte fate ctrl v e quindi avete duplicato questa informazione. Ecco, il duplicare l'informazione è un atto religioso, secondo questa religione. Più duplichi informazioni, più diffondi la cultura, più diffondi la conoscenza, più il mondo diventa un posto migliore. Quindi il copincollismo, ve lo consiglio anche questa, sia chiesa missionaria del copincollismo. Cercatevela perché è davvero interessante. E poi abbiamo la chiesa dell'invisibile unicorno rosa. L'invisibile unicorno rosa pregente è una religione che, come tutte le religioni, dicono loro, è basata parte sulla scienza e parte sulla fede. Per esempio, proprio nel caso dell'invisibile unicorno rosa, la parte della scienza dimostra che l'unicorno è invisibile, quindi abbiamo una prova scientifica che l'unicorno è invisibile perché non l'ha visto mai nessuno. Mentre la parte della fede dimostra che l'unicorno è rosa per fede, ci devi credere. Quindi anche questa è una religione molto carina, vi invito anche questa a vederla. Con questa soluzione, con questo modo di vedere la religiosità interiore, personale, tenendo conto solo del fatto che Dio esiste, uno, e è onnipotente, se vuoi, due, perché alcune religioni neanche gli interessa tanto che Dio è onnipotente. Con queste due cose, facciamo al contrario, uno e due, ok? Uno, Dio esiste, due Dio è onnipotente. E allora a quel punto si può vivere tutti in armonia, perché poi le regole vengono da altro, allora lavoriamo sulle regole, ok? E questo lo dico per parlare anche degli agnostici. Gli agnostici sono un gradino sopra gli atei, cioè gli atei hanno deciso, è una scelta, io sono ateo, non credo a niente. Gli agnostici sono quelli che dicono, ma sai che c'è? Non mi interessa. Io mi comporto al meglio che posso, faccio quello che posso, nella vita, nei confronti degli altri, nei confronti delle persone che ho attorno, rispetto le leggi, cerco di essere un buon cittadino, cerco di essere buono per chi vuole cercare di essere buono, che come dice Socrate, chi cerca di essere buono vive meglio di chi cerca di essere cattivo. E quindi a quel punto vanno bene anche gli agnostici. Vi rendete conto? Cioè, se noi avessimo solo queste due regole, Dio esiste ed è onnipotente, o anche solo la prima e basta, vivremmo sereni anche con gli agnostici, ma anche con gli atei volendo, perché a quel punto loro non si sentirebbero invasi nella loro quotidianità e noi saremmo tutti felici. Comunque, per chiudere voglio parlare dell'ultima religione, l'ultima in questo elenco, perché ce ne sono altre, quella che io ritengo più importante, più forte, quella che io ho abbracciato, la mia religione, che è il pastafarianesimo. Allora, il pastafarianesimo è una religione fantastica. Vi dico giusto due parole perché è importante che le sappiate, però vi invito ad approfondire il pastafarianesimo, c'è il sito ufficiale che è www.chiesapastafariane.it, magari ve lo metto qua sotto. Andate lì, informatevi perché la chiesa pastafariana dice che l'universo è stato creato da un'entità fatta come fosse una nuvola di spaghetti che vola nell'universo, questi spaghetti con le polpette dentro, e questa nuvola di spaghetti ha creato l'universo in un momento di delirio alcolico, in cui la divinità era completamente ubriaca, il prodigioso spacchetto volante aveva bevuto, era proprio completamente fuori di testa, ha cominciato a creare l'universo. Facciamo la terra, facciamo il mare, le montagne, e questo dimostra anche l'imperfezione dell'universo, è un motivo per cui il mondo è un posto imperfetto, perché se ci pensate, se avesse creato tutto in maniera lucida, avrebbe fatto questo i laghi quadrati, avrebbe creato le montagne come dei paralleli pipidi, tutto perfetto, tutto alla stessa altezza, livellato, spianato, facile, no? Invece no, proprio si vede che lui era un momento così. La cosa importante è farci una birra assieme, e quindi io chiudo, augurandovi tutto il bene possibile, ricordandovi che se questo video vi è piaciuto mettete un like che fa sempre piacere, condividetelo così aiutate questo canale a crescere e anche il pastafarianesimo a proliferare e anche magari a creare un mondo migliore, perché veramente se la smettessimo di ammazzarci per la religione sarebbe una cosa fantastica. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento, perché a me interessa il confronto, mi piace sapere le vostre opinioni, mi piacerebbe sapere se c'era qualcosa in più che avrei potuto dire, o qualcosa che ho tralasciato, o che ho sbagliato, che ho insultato qualcuno per sbaglio, non era mia intenzione, fatemelo sapere, così magari nei prossimi video sarò più delicato, starò più attento, fatemelo sapere, parliamone, che è la cosa più importante. E poi in ultimo se volete andate a fare una visita al sito www.legagiochi.it perché in questo momento ci sono gli sconti e anche in futuro ce ne saranno altri, quindi date un'occhiata. Quindi detto questo io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e vi mando una benedizione, che il prodigioso spaghetto volante vi avviluppi e vi unga di sugo. Ramen. Grazie. 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 Grazie.